La normativa dal 20 gennaio stabilita dal governo Draghi per quanto riguarda l'accesso nei centri estetici, barbieri e parrucchieri si può entrare solamente col Green Pass. Lei è titolare di questa attività, come ha preso questa decisione? Io sono ovviamente d'accordo con questo tipo di iniziativa perché ci garantisce di lavorare in sicurezza per me e tutti i miei collaboratori e tutti i nostri clienti hanno la possibilità di venire da me sapendo che tutte le normative sono rispettate, quindi con maggior serenità e sicurezza. Può comportare ovviamente delle riduzioni nell'afflusso di clientela per voi? Allora, calcolando il fatto che qui in zona ci sono l'82% dei vaccinati, quindi ovviamente ci sarà qualche caso sporadico di persone, ma penso che se vogliono venire da noi provvederanno, magari con un tampone, spero. Quindi non credo che influenzerà più di tanto, anzi io sono convinta che il Green Pass ci dia la possibilità di lavorare e non come ricordiamo bene l'anno scorso e addirittura l'anno prima, siamo stati chiuse la prima parte, abbiamo fatto un lockdown di quasi due mesi e l'anno successivo chiudendo tutti i fine settimana perché qui siamo centro commerciale. Quindi io ritengo che il Green Pass ci dia la possibilità di lavorare, cosa che è molto importante perché comunque anche gli anni precedenti abbiamo avuto un po' di difficoltà sinceramente, quindi sono convinta che sia una cosa più che giusta. Io penso che questa decisione già sia fatta male perché già con il terrorismo mediatico che è stato fatto abbiamo già i negozi vuoti. Penso che oltretutto il Green Pass contribuirà a fare ancora i nostri negozi vuoti così e quello che penso io è quello che non abbiamo aiuto da nessuna parte, abbiamo solamente un modo per non lavorare. Lei pensa che ci potesse essere un'altra soluzione, un'altra decisione in alternativa a questa che è stata presa? Sì, ogni persona della sua vita deve fare quello che vuole, se uno vuole farsi il vaccino se lo fa e se non lo vuole fare non se lo fa e mette a rischio la sua vita, quindi io penso che ogni persona ha diritto di decidere della sua vita, punto. Con la vaccinazione degli over 50 penso che non serve a niente, vaccini tutti oppure lasci decidere alle persone quello che vogliono fare.